Acqua, conflitto, ascoltare le parole o vedere delle immagini, assistere a una violenza o a una miseria, mi deprimono per esempio i mendicanti, le persone in difficoltà. Megalangelo, quello del mare, forse il vento, ballerino, contabile, il cervo è sempre stato il mio totem, la pianta è il gelsomino persiano, essere un po' troppo testardo, essere molto volitivo, la voce, essere intonato, la ricerca del tempo perduto, Michelangelo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.